È un fatto clamoroso, il DEF è stato bocciato dalla Camera dei Deputati per la prima volta nella storia della Repubblica perché la maggioranza non è stata in grado di garantire la presenza dei propri parlamentari. Ora per noi la Meloni deve venire in Parlamento a spiegare e andare a inquinare e spiegare altrettanto questa inadeguatezza incredibile della maggioranza. La maggioranza dice errore tecnico non volontà politica. Errore tecnico non volontà politica, è un errore che porta, se è tale, al DEF a non essere approvato con delle conseguenze incredibili nei confronti del Paese, sono semplicemente degli irresponsabili. Ricordo il Ministro Lollobrigi da alcune settimane fa che si rivolgeva ai giovani dicendo sono sdraiati sul divano, dovrebbero anche riuscire a imparare ad andare a lavorare nei campi. Oggi dei parlamentari non sono venuti a lavorare nella Camera dei Deputati. Ora si deve tornare in Consiglio dei Ministri? Deve essere riconvocato il Consiglio dei Ministri e riportata l'approvazione sia alla Camera che al Senato.